Mistero risolto. Il risponso dell'ARPA è arrivato e, a quanto pare, nel tratto di costa tra Torvajanica e Ardea non ci sarebbero tracce di inquinamento o fenomeni di contaminazione in atto. Il divieto di balneazione è stato revocato con effetto immediato, consentendo così ai cittadini, villeggianti e imprenditori di riprendere le loro attività esattamente da dove le avevano precipitosamente lasciate la scorsa domenica, quando la Capitaneria di Porto richiamò tutti fuori dall'acqua. Le analisi svolte dall'Azienda per l'Ambiente hanno ricondotto quanto accaduto nel precedente weekend alla fibrocapsa japonica. Si tratta di un'alga assolutamente non tossica per l'uomo che, con una massiccia fioritura, avrebbe provocato il colore torbido e il cattivo odore del mare. Sono felice che quanto accaduto sia stato risolto nel migliore dei modi e di comunicare che l'acqua di Torvajanica è sicura e pulita. È stato questo il primo commento del sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà.